Buongiorno a tutti, sono sempre VittoriaSantootto la maglietta che vedete indossata la trovate in scritto sotto c'è il link per acquistarla sul sito di Pampling come sempre se all'acquisto volete aggiungere un paio di calze e usate il codice sconto VILASLO le calze sono in omaggio e la maglietta è inserita nella promozione 4x40 che vi permetterà di avere 4 magliette a 40 euro quindi 10 euro a maglietta e se quindi volete usare quella promozione se usate il codice VILASLO non solo potete avere gratis le calze se le aggiungete all'acquisto ma non pagate neanche le spese di spedizione che può essere molto utile vi ricordo che se all'acquisto volete aggiungere uno o più magliette con la stampa sorpresa ovvero con la stampa che scoprite quale sia solo quando vi arrivano a casa ognuna di queste magliette la pagate 4 euro che può essere anche un'interessante idea regalo ma ora a bando alle cianci iniziamo subito con il video di oggi sigla allora la maglietta parla chiaro oggi voglio parlare dei primi episodi della quinta e ultima parte di una serie che trovate nel catalogo di Netflix gli episodi sono usciti lo scorso venerdì in tanti mi avete chiesto di parlarne eccomi qua mi riferisco naturalmente alla casa di carta ma quanto è bello ogni tanto tornare a parlare di questa serie che ci regala sempre grandi soddisfazioni trash tra l'altro gli ultimi episodi che concluderanno la serie intera arriveranno i primi giorni di dicembre quindi non manca molto al momento in cui ci libereremo di questa minchiata sopravvalutatissima non ho mai capito per quale motivo la casa di carta venga così tanto osannata adesso ci sono tanti detrattori certo però intanto è uscita una quinta parte e siamo a tre parti in più di quello che era necessario perché se non lo sapete la casa di carta non è sempre stato un originale Netflix no la casa di carta era una serie che andava in onda su una televisione spagnola e che contava due parti la fine della seconda parte era la fine della serie poi Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione la serie è stata inserita nel catalogo senza neanche una particolare sponsorizzazione sui vari social dell'azienda e per motivi ignoti la gente vi si è appassionata tantissimo tant'è vero che Netflix ha chiesto agli attori e alla produzione se volessero continuare quindi si sono inventati una trama strampalata che è stata portata avanti in maniera faticosa e insensata quindi io quando ho saputo che sarebbe uscita la quinta parte ho pensato e vabbè dai altro giro altra corsa farò spoiler quindi parlerò in maniera specifica di questi primi cinque episodi della quinta parte per cui siete avvisati se non volete spoiler non proseguite con la visione di questo video ragazzi io devo essere sincero ho trovato questi primi episodi dell'ultima parte meno orribili rispetto a quelli della terza e della quarta nel senso che lì c'erano veramente le cose che mi facevano incazzare e basta qua almeno abbiamo una migliore gestione del ritmo anche se abbiamo sempre i soliti flashback tra le palle che spezzano tantissimo l'azione ma quantomeno hanno scelto di mostrarci dei flashback interessanti nel senso che abbiamo i flashback su Berlino e suo figlio Raffael l'idea che sta dietro a questi flashback può anche starci la messa in scena no lui ha questo figlio che aveva riconosciuto ma con cui non aveva un gran rapporto e li vediamo che parlano con il figlio che dice papà tu mi hai abbandonato mi hai trattato come una merda ma io ti perdono ok va bene a proposito ti ho usato pagandoti l'università per farti diventare ingegnere in modo da sfruttare le tue capacità per fare dei furti non ha un cazzo di senso questo dialogo e non ha senso che il figlio accetti che il padre faccia una cosa del genere e non decida di punirlo ma puntano sul fatto che essendo suo figlio anche lui ha un lato folle tra l'altro in tanti dicono ma perché continuano a mettere tra le palle Berlino che è morto parecchio tempo fa è morto nella seconda parte ebbene Berlino era il personaggio più amato non c'era l'idea di continuare la casa di carta l'idea era quella di seccarlo nella seconda parte e lavarsene le mani ovviamente poi quando hanno deciso di continuarla il personaggio era morto e quindi cosa fai? lo fai cicciare fuori nei flashback io sono anche contento perché comunque mi piace molto mi piace questo suo modo di vedere le cose non curante ma preciso e filosofico anche se il 95% delle cose che dice sono spazzatura sono merda però in realtà quel flashback serve per farti capire probabilmente come lui è finito in prigione come la moglie lo ha credo tradito per scapparsene con il figlio perché nell'ultimo flashback vediamo che lui dice che bisogna prendersi le cose che si vogliono anche se non sono proprie e vediamo il figlio che guarda Tatiana la quale ricambia lo sguardo voluttuosamente quindi come flashback non sono male a livello di potenziale poi la messa in scena non è granché però ad esempio il momento in cui vanno a rubare l'oro vichingo ci sta perché quando Berlino butta la valigetta nel lago per dare una lezione al figlio ho pensato ma che sta stronzato ho capito che vuoi fare robin hood e no antri ma mi sembra un po' assurdo salvo poi scoprire che in realtà faceva parte del piano e hanno recuperato la valigetta in subacquea uno di loro si era messo per appunto la muta la sub per prendere per l'appunto l'oro e quindi lì abbiamo il momento in cui Berlino si capisce che ti prende sempre costantemente per il culo e poi c'è anche un altro flashback che mostra il professore e Berlino che vedono al televisore vedono in televisione il momento in cui Tokyo Silene era diventata una ricercata ed è il momento in cui decidono di reclutarla il primo membro che reclutano della banda per la rapina alla zecca quella delle prime due parti questa cosa mi piace perché è come se avvicinandosi il finale voressero approfondire dei momenti che effettivamente non ti avevano mai mostrato prima ma ti avevano solo accennato ad esempio Tokyo che era scappata durante la rapina in cui il suo ragazzo l'ha stato ucciso era qualcosa che sapevamo ma che non era mai stato approfondito qua invece ti fanno vedere lei che era innamoratissima di lui ti fanno capire che al contrario di quello che poteva sembrare perché sembrava quasi che lei non fosse particolarmente sconvolta dalla morte di lui sì nella prima parte vedevamo che stava male ma non avevamo capito quanto lei fosse legata a lui tant'è vero che c'è il discorso del vivere tante vite del fatto che lei è sì innamorata di Rio talmente innamorata che tutta questa rapina del cazzo al banco di Spagna per rubare l'oro nazionale l'hanno fatta perché lei si era stufata di Rio e l'aveva abbandonato per andare a divertirsi nei peggiori bar di Caracas che poi era in realtà la Panama ma vabbè e quindi hanno poi dovuto fare tutto questo casino del colpo al banco di Spagna per poter farsi dare Rio quindi proprio innamorata di Rio secondo me non era ma lei è una rincoglionita disfunzionale e quindi ce lo dobbiamo far andare bene io vi giuro l'inizio di questo secondo colpo l'ho trovato una delle cose più stupide sempre ma lo sapete perché avete visto i video precedenti suppongo se non lo sapete magari andatevi a guardare perché ero incazzato e non poco e qui quindi ti approfondiscono questa cosa mi sta bene anche se sinceramente io tocchio l'odio dal profondo e quindi non è che me ne fregasse qualcosa di sapere che lei fosse tanto innamorata del suo ex con cui faceva le rapine però vabbè non importa diciamo che questa parte è un allungamento del brodo però è un allungamento del brodo che mi ha fatto meno incazzare sarà che ormai so come approcciarmi alla casa di carta devo spegnere il cervello io faccio la recensione solo perché in tanti mi avete chiesta e mi dispiace deludere magari la voglia di vedere un video fatto da me su questa serie però vi dico la verità ormai io parto dal presupposto che sto guardando una merda mi dispiace ma è così è una serie che è fatta solo esclusivamente per battere il ferro finché è caldo non c'è una reale idea dietro hanno cercato in tutti i modi di giustificare un suo proseguimento e si arriva all'inizio di una quinta parte con tante cose che si potevano tranquillamente evitare tra l'altro a me tutta la parte con Alicia Serra che sorprende il professore gli spara al piede inizia a torturarlo stava anche piacendo non fosse che poi hanno scelto la cosa più stupida che potevano fare cioè qual è l'idiozia più grande che potevano tirare fuori per salvare il professore da quella situazione io mi immagino che la cosa sia andata in questo modo Pier Lanfranco ascolta qua ci vuole un'idea veramente forte cioè il professore è lì con Alicia Serra che non ha più niente da perdere che lo può torturare ammazzare che cosa possiamo fare ci vuole un'idea geniale esimio collega Pierfrancesco degli espositi ma naturalmente possiamo fare una cosa che nessuno si aspetterebbe mai le facciamo rompere le acque esatto i cliché della donna incinta che nel momento in cui sta facendo qualcosa importante tac viene colta dal parto improvviso e naturalmente siccome il professore sa fare tutto riesce a farla partorire facendosi liberare perché il bambino caso vuole sia podalico proprio un deus ex machina nel ventre incredibile e lo tira fuori come se fosse un cavallo parole dello stesso professore infilando la mano fino al gomito con il braccio nel pertugio sacro di serra e estraendo il bambino più brutto e macilento che si sia mai visto nella storia dei prodotti audiovisivi sospetto che abbiano usato una bambola riborna perché quando piange sembra neanche non sembra neanche muoversi ma al di là di questa scena che ho trovato di un cringe e uso questa parola perché mi stavo imbarazzando per loro e questo vuol dire cringe che è impressionante però per il resto nel mentre ti fanno vedere i tumulti al banco di spagna tra l'altro il fatto che abbiano fatto tornare l'ispettora l'ispettora ad aquel nel banco di spagna lo hanno spiegato perché alla fine della quarta parte lei entrava dentro al banco io pensavo ma perché non potevano farla scappare invece no perché in questo modo avrebbero indebolito la posizione della polizia che vedendo in televisione in diretta il fatto che lei era tornata dentro avrebbe fatto la figura dei coglioni e c'è Tamayo che è il capo delle operazioni speciali che se prima era un coglione qua veramente è un cretino incredibile urla i suoi piani malvagi a alta voce senza curarsi del fatto che possono esserci delle trasmittenti io vi dico mi viene in mente la scena di così la vita cioè noi dovremmo dormire soli tranquilli perché c'è lui che vigilia su di noi e lascia la persona nel porto oggetti è quello cioè la stessa cosa noi dovremmo essere tranquilli perché c'è Tamayo che è l'intelligence dei servizi segreti ed è un cazzone integrale io ero lì che dicevo ma questo io capisco che volevano fare il cattivo odioso c'era già stato Prieto prima però Tamayo è ancora peggio di Prieto perché Prieto perlomeno era cazzuto Tamayo è a parte ridicolo da vedere vi giuro sembra Z di Man in Black con meno carisma ma poi soprattutto è un imbecille ah inquineremo le prove vedrai faremo un casino e non si accorge che hanno messo una trasmittente ora capisco che tu possa non accorgertene ma siccome sai che stai praticamente giocando contro L di Death Note perché questo è il professore L di Death Note ma rincoglionito fai attenzione invece di urlare a tutti che ti sentono anche di fuori della tenda ma magari non so prendi qualcuna a parte e fai senti ascolta qua dobbiamo fare questa cosa qua siccome io sono una mastermind cattiva non urlo il piano a tutti quindi perché non facciamo che incastiamo sierra e facciamo un po' di sotterfugi benissimo ma poi ci sono ragazzi delle cacate ma delle cacate in questa parte che io mi sono fatto andare bene perché se avessi dovuto incazzarmi per ogni stronzata probabilmente mi trovereste in un istituto di igiene mentale a mangiare la mia stessa merda veramente non sto scherzando basti pensare al fatto che a un certo punto devono negoziare la liberazione di Gandia l'action man pelato che ha ucciso Nairobi peraltro per farvi capire quanto questa serie abbia lasciato una certa emozione su di me neanche mi ricordavo che Nairobi fosse morta pensate questo quindi decido di negoziare la sua liberazione per evitare che entri l'esercito e gli faccia il culo e dopo averlo pestato un po' lo liberano perché lui aveva delle schegge conficcate nelle vertebre e rischiava di rimanere paralizzato e tu dici bene l'hanno liberato fine no no perché hanno tirato fuori credo la veramente l'apice il vertice il sacro graal il nirvana delle stronzate completamente a caso chiama Tamayo chiama questo soldato questo agente speciale dell'esercito molto famoso che ha condotto operazioni poco pulite in vari luoghi del mondo indisturbato con il benepracito del governo e lui dice entriamo ma voglio voglio la mia squadra Tamayo esce dalla tenda perché questo qua ha convocato la squadra e io vi giuro ragazzi è la Suicide Squad dei poveri cioè veramente sono questi personaggi cioè quello pazzo che capisci che è pazzo perché e ride da solo che io dico ma veramente date una pistola in mano a questa persona siete sicuri quello grosso grossissimo che cammina così perché ha i bicipiti che gli impediscono di chiudere le braccia la ragazza con i dreadlock anche lei pazza cioè e vi giuro un set di personaggi che messo in quel modo in quel momento mi ha fatto pensare ma cosa cazzo sto guardando vi giuro cioè sembra sapete cosa sembrava sembrava la versione da malati di mente della Fox Sound di Metal Gear e io ero lì che guardavo e dicevo ma che cioè capirei stessimo guardando una serie iper ironica una serie che diciamo mette in scena delle cose assurde una roba la Swiss Head Squad potrei capire ma perché all'improvviso c'è una rapina stanno cercando di sventarla e mandano come membri dell'esercito questi tizi sconclusionati che non dovrebbero neanche aver potuto superare un esame psicologico per entrare nell'esercito non gli darei la gestione di un condominio come portieri a questi individui qua e quando entrano io vi giuro a parte il fatto che si scatena la guerra più totale e questo non mi è dispiaciuto perché c'è tanta azione in più in questa stagione in questa prima in questi primi episodi della quinta parte non mi è dispiaciuta questa cosa devo essere sincero ho vagamente apprezzato l'idea di voler mettere un po' di azioni in più e non è neanche realizzata così male fino a che non succedano delle cose che sono veramente allucinanti ma prima di proseguire con l'elenco diciamo di pregi e difetti della casa di carta credo che ci sia una persona che vuole dire la sua su quello che è stata questa prima parte della quinta parte come ormai consuetudine in questi video sulla casa di carta lascio la parola a morte bianca vai ringrazio il mio buon amico victor laslo 88 per avermi concesso questo spazio sul suo canale io sono morte bianca e oggi parliamo della più recente stagione della casa di carta e ci sono due temi interessanti da affrontare e meno male perché se no tolti questi sarebbe da tagliarsi le maracas il primo tema che si affronta che è una consecuzio delle stagioni precedenti è quello della cultura conservatrice spagnola in effetti la serie in tutte le sue stagioni critica le gerarchie in ambito politico sociale ed economico nelle scorse stagioni si è parlato di disuguaglianza economica e dell'eccessivo potere del settore bancario si è parlato dei governi che abusano dei servizi segreti in paesi del terzo mondo violando i diritti umani si è parlato di corruzione del cito politico in questa nuova stagione noi vediamo in particolare una critica a quello che è il post franchismo nella politica spagnola stessa la spagna come ben sappiamo ha affrontato una lunghissima dittatura in mano al sanguinario francisco franco franco a differenza di hitler e mussolini non è mai stato deposto con la forza lui e il suo regime sono sopravvissuti per tutta la sua vita stabilizzandosi ed impiantandosi nella società civile spagnola plasmando generazioni di giovani funzionari politici e militari il franchismo invece di venire rimosso tramite una rivoluzione o una guerra come è successo in italia ha potuto proseguire indisturbato e la dittatura di franco quando è crollata è riuscita a riciclare tutti i suoi elementi politici nelle forze politiche di centrodestra spagnole e ancora oggi ne hanno conservato le attitudini costituzionali si pensi al fortissimo unitarismo la fobia verso ogni forma di autonomia soprattutto catalana il forte governo centrale le attitudini sociali monarchia confessionalismo l'aristocrazia vista come buona e giusta la critica verso ogni forma di assistenza ai poveri la corrida e le attitudini soprattutto militari la Spagna è infatti tristemente nota per avere una polizia estremamente militarizzata ossia molto più armata molto più violenta molto più libera di fare come preferisci senza ripercussioni questa è una triste eredità del franchismo e che la monarchia spagnola ha mantenuto per reggersi in piedi nella serie noi vediamo continuamente le forze di polizia che non si vanno a problemi a usare sotterfugi violare i diritti sia dei rapinatori sia degli ostaggi e mercanteggiare con delle vite umane ma soprattutto poi vediamo l'intervento delle forze speciali dell'esercito che sono rappresentate da Gandia Gandia il cui nome ricorda solo foneticamente Gandhi e per il resto non potrebbe essere più diverso a meno di non parlare del Gandhi di Civilization e come abbiamo detto in un precedente video qui sul canale di Vic la rappresentazione massima di tutta quella serie di gerarchie e discriminazioni tipiche del pensiero conservatore che da millenni piagano l'umanità è un transfobico un omofobo un misogino un razzista un fervente nazionalista senza se e senza ma obbedire agli ordini sempre e comunque chi si ribella va schiacciato è irrispettoso dei diritti umani vede la violenza come unica soluzione ai problemi più volte viola i diritti del suo mandato di sicurezza per puro sadismo Gandia insomma rappresenta il sogno bagnato di tutti i fascisti un pelatone palestrato che arriva e fa fuori chiunque non gli piaccia ossia tutti ahimè Gandia rappresenta in realtà nella sua crudele malvagità una realtà molto diffusa sia negli Stati Uniti sia in Spagna il problema principale delle forze dell'ordine che ringrazio è che questo vale sia per la polizia ma soprattutto per l'esercito e che devono essere pronte a togliere una vita umana se necessario e questa è una cosa molto difficile e traumatica da fare e non è dunque sorpresa che qualcuno spontaneamente cerchi di ribellarsi di disobbedire o addirittura abbia un momento di esitazione nel momento cruciale per questo motivo in alcuni paesi si fa quello che possiamo definire un vero e proprio lavaggio del cervello studia la mano alle forze dell'ordine e si fa una lunghissima metodica e studiata propaganda su di loro lo scopo è plasmare le menti al fine di renderle più obbedienti possibile più cariche di rabbia possibile e di deumanizzare i criminali facendoli vedere come dei mostri perché i criminali non sono mostri ma umani come noi e se sono umani come noi diventa difficile per parafrasare Colombo premere il grilletto contro noi stessi e allora si cerca di deumanizzare l'altro utilizzando la diversità che viene tradotta in inferiorità lei è una donna non è un umano lei è un trans un malato un mille altre cose Gandia rappresenta dunque perfettamente il neofascista incallito e che ha subito un lungo lavaggio del cervello dei suoi superiori per diventare un cagnolino obbediente una mina pronta ad esplodere mentalmente instabile e che sta compensando le sue debolezze sessuali con una violenza che ha un esplicito carattere sessuale basti vedere come molesta verbalmente e fisicamente le donne ogni volta che le attacca e come sembra eccitarsi quando prende un'arma simbolo fallico per eccellenza che eccita ogni neofascista che lo guarda Gandia infatti ha dei problemi matrimoniali evidenziati da Tokyo con cui flerta peraltro nonostante sia sposato la famosa famiglia tradizionale insomma Gandia è il ritratto della disfunzionalità presente nell'eccessiva militarizzazione e slatentizzazione di violenze psichiatriche delle forze dell'ordine e ci basta studiare un attimo per capire che non è tutta fiction il 40% dei poliziotti americani commette violenze domestiche benché diversi siti conservatori abbiano cercato senza successo di smentire tale critica più studi confermano questo triste nesso causale e i compagni di Gandia membri speciali dell'esercito non sono da meno violenti predatori sessuali con istinti omicidi suicidi tratti schizofrenici palesati comportamenti animalistici che feticizzano le armi alla violenza una mentalità tribale e soprattutto una considerazione della vita umana soprattutto quell'altrui praticamente nulla Arturo Roman il personaggio forse più odiato insieme a Gandia escludendo Tokyo che intendo che è la loro fusione è un personaggio apparentemente diverso da Gandia ma in realtà è il suo esempio speculare entrambi sono misogini non si fanno problemi a molestare le donne entrambi vedono il diverso come inferiore hanno una visione sprezzante della vita umana conservatrice vogliono schiacciare chi si trova sotto di loro e appena Arturito prende delle armi diventa praticamente identico ad un Gandia con tanto di lanciafiamme stile marine in Vietnam e frasi per provocare Denver invece di Tokyo e tutto il resto Arturito è un Gandia che non ce l'ha fatta sono entrambi la rappresentazione di una mentalità patriarcale piccolo-borghese che cerca di salire la piramide sociale più in alto che può e per questo che Arturito resiste per tutto questo tempo ai vari tentativi di ammazzarlo lui rappresenta una mentalità tipica della società spagnola non ci si libera di lui con così poco ed è anche per questo che Gandia al tempo stesso non muore se non ci auguriamo nell'ultima scena in cui salta per aria perché Gandia non è uno solo lui rappresenta tutta una frangia di pensiero chiamiamolo pensiero che inevitabilmente si scontra con la banda del professore che è composta da donne omosessuali malati anziani transessuali poveri reietti intellettuali poliziotti che rispettano i diritti umani tutte le categorie insomma che non vengono non convengono al sistema lo scontro tra le due cose è inevitabile Gandia contro professore corruzione contro onestà gerarchia contro democrazia oppressione contro libertà la vecchia spagna franchista contro una nuova spagna dadaista possibile bugie contro verità ma il secondo tema è quello del valore della vita che viene affrontato principalmente nei flashback di Berlino Berlino viene contrastato più volte dalla figura del figlio lo scontro dialettico è anche parecchio comico dato che il figlio è rispettoso delle regole è il superio mentre Berlino lo spinge a fare quello che vuole ed è l'ess ed è comico perché quasi sempre è il contrario in realtà il superio è una ipostasi psicoanalitica della paternità addirittura c'è un complesso di edipo invertito con il padre che invita il figlio a farsi la sua nuova amante che sarebbe quindi la sua matrigna ma al di là di queste mie considerazioni il padre cerca di smuovere il figlio dalla sua concezione legalistica della vita dicendogli che la vita è ben altro e con una morale edonistica di sfrenata ribellione contro la realtà bisogna cogliere l'attimo finché è in nostro possesso e bisogna fare ciò che si desidera davvero il figlio gli fa notare che questo implica la sofferenza le regole esistono per un motivo e chi viola le regole non fa una bella fine ma è qui che Berlino inavvertitamente ci dà una profonda lezione di esistenzialismo le cose davvero preziose hanno un prezzo pensateci bene è vero se qualcosa fosse comune non avrebbe valore e quando è difficile da ottenere per definizione che è valore che si alza il suo valore è solo con il lavoro necessario per ottenerlo che nasce il valore ebbene Berlino dice che i ladri sono coloro che sono disposti a pagare quel prezzo esistono cose a questo mondo degne di essere ottenute ma difficili richiedono dei sacrifici e Berlino ripercorrendo la dialettica servopadrone di stampo egheliano è colui che è disposto a dare la vita ma solo in questo modo può vivere appieno la vita vivendola ad un piano differente tuttavia questo è un cammino distruttivo per la vita stessa che conduce inevitabilmente quindi alla morte lo vediamo anche con Tokyo è l'ex di Tokyo entrambe figure incontrollabili e puramente donistiche ed entrambi fanno la stessa brutta fine uno dopo l'altro alla fine tra la tesi del della ribellione di Berlino e di Tokyo e l'antitesi dello sbagliato legalismo e il rispetto delle regole sempre comunque di Gandia la vera sintesi la offre come sempre il professore colui che riesce sì ad essere rivoltoso ed esplosivo nella sua rivoluzione ma incanalando questa forza in una direzione precisa e studiata fondendo la libertà con la ragionevolezza etica anche Denver è sopravvissuto passando dall'essere come Tokyo tanto che ci stava insieme e quindi anarchico sempre ribelle sempre che diceva cozzo dovete fare questo cozzo a diventare piano piano come suo padre mettendo la testa a posto sposandosi avendo un figlio e dicendo io non posso fare cazzate perché devo tornare da mio figlio ringrazio Morte Bianca per il suo puntuale e preciso intervento come al solito e come vi stavo dicendo quando la Swiss Air Squad dei super poveri entra nell'edificio succede una cosa che un po' mi è spiaciuta perché loro sfondano il tetto e in quel momento c'è Helsinki che stava facendo o Helsinki una trincea e il soffitto crolla crolla anche questa statua che gli maciulla una gamba quindi la quinta parte questa prima parte della quinta parte termina con Helsinki che sta male che rischia veramente la vita mi dispiacerebbe perché era l'unico personaggio a cui fossi ancora affezionato ma devo dire che per quanto ci sia sempre questo gusto dal sapore di telenovela nella casa di carta la scena con Palermo che aveva una relazione con Helsinki di fronte a quest'uomo che sta morendo mi è piaciuto molto perché Palermo che fondamentalmente diceva di usare Helsinki soltanto per il sesso in realtà è probabilmente innamorato di lui quindi il fatto che cerca di fare tutto per salvarlo mi è piaciuto perché dà un minimo di profondità in più al personaggio se devo essere sincero la caratterizzazione dei personaggi l'ho preferita in questa quinta parte piuttosto che nelle precedenti però attenzione ragazzi perché questo è molto importante non sto elogiando la quinta parte sto semplicemente dicendo che rispetto alla terza e alla quarta l'ho trovata quantomeno più divertente non di certo più sensata ma almeno ci ho visto una struttura scegliere di mostrarti certi flashback per approfondire personaggi scegliere di approfondire alcuni personaggi e i loro rapporti peraltro durante una rapina mi fa morire da ridere neanche durante una rapina durante uno scontro a fuoco che sembra la quarta guerra mondiale ma anche la terza c'è Manila che era era precedentemente il migliore amico di Denver che poi dopo aver eseguito la transizione è diventato la migliore amica di Denver è transessuale e nel mentre che questi sono sotto una pioggia di proiettili lei inizia a dire ma io ti ho sempre amato ma tu ami Stoccolma dai io credo che tu non sia felice saresti più felice con me durante una cazzo di guerra combattuta in 20 metri quadrati cioè ripeto io capisco che la maggior parte dei prodotti spagnoli televisivi soprattutto hanno un gusto di telenovela hanno questo gusto per il dramma che a me fa cagare l'ho sempre detto questa serie è paso adelante con le pistole ok e va bene avere questo tipo di gusto è uno stile ma porca puttana questi stanno morendo sotto una pioggia scrosciante di piombo e tu che cosa fai decidi di mettere in mezzo un dialogo su loro che su una su una che dice ti amo l'altro che dice no io amo Stoccolma ma vi sembra così come mi ha fatto morire da ridere il fatto che a un certo punto Arturo che ormai è un personaggio che è odioso perché si è un coglione deve fare il coglione anche se questo non ha senso prende il controllo della sala delle armi insieme al governatore e un altro paio di ostaggi e inizia a fare Rambo con lancia fiamme costruiscono un car armato rudimentale con la gatling e Stoccolma passando al condotto all'azione scende e spara ad Arturo che stava per spararle a sua volta e da lì Arturo non è morto ancora anche se io spero tanto che ci dicano che è morto ma è in gravi condizioni perché lo fanno uscire lei ha queste visioni in cui vede Arturo ovunque ed è la personificazione del suo senso di colpa quindi nel momento in cui sono entrato l'esercito stanno sparando rischiano meno di tutti lei sta curando il sinchio e che cosa fa? la cosa più normale di tutte si droga ok ma sì dai fuggiamo dalla situazione trocandoci ma fosse una tossicodipendente potrei capire ma no lei vede due o tre volte Arturo e quindi pensa subito c'ha mi faccio di morfina così non soffro nel momento in cui potrebbe aiutare le persone a salvarsi e fortunatamente prima di collassare riesce a dire loro che dalla cucina in cui sono locati si può scappare attraverso il montavivande ok c'è una scena meravigliosa con loro che si barica nella cucina portando il piano cottura con i cerchi che sarebbero quelli dei fornelli aperti in modo da avere la possibilità di sparare e avere una lastra che blocchi i proiettili c'è questa scena ci sono ci sono due scene conseguenziali che sono una cazzo di meraviglia ok una è Tokyo che lancia un pollo crudo alla Swiss Air Squad dei poveri ok con infilato nel culo al posto della farcitura una granata ma quello pazzo con gli occhi balenghi taglia il pollo prende la granata la rilancia Tokyo e c'è questa scena spettacolare della granata che entra nel buco del fornello della lastra messa come protezione Tokyo che fa un calcio girato che Chuck Norris spostati dal cazzo e la rimanda indietro io capisco che vuoi fare una cosa tamarra comprendo che vuoi mettere un po' d'azione però ragazzi io vi giuro guardando questa parte questi primi episodio della quinta parte ho pensato è la cosa più pericolosamente vicina a Fast and Furious che abbia mai visto nella mia vita non sempre non in ogni momento ma ci sono delle scene specifiche in cui vi giuro ho pensato minchia Dominic Toretto vive in te sorella cioè veramente io gli dicevo ma che cazzo sto guardando ho riso sono scoppiato a ridere tanto che la svetta è venuta a me e ha detto ma cos'è che c'è da ridere niente ti spiego dopo perché davvero ma il punto è che non penso che la scena volesse far ridere è questo il fatto la casa di carta era una serie che era iniziata a partire da un'idea comunque interessante non originale come tutti dicono perché lo ripeto è Inside Man fatto male se guardate Inside Man di Spike Lee fin di 15 anni fa è la casa di carta ma fatto bene anziché avere le maschere da da lì avevano le tute blu da uomini di pulizia con gli occhiali da sole e un velo bianco a coprire naso e bocca ma il senso è quello loro che si nascondeva là dentro guardate che è molto simile cioè la casa di carta ha plagiato tantissimo e poi ci ha messo le sue solite cacate ma le prime due parti potevano ancora starci perché comunque c'era l'idea che loro rappresentavano la resistenza c'era l'ideologia dietro al piano del professore ideologia che si è andata a perdere via via sia nella terza che nella quarta parte fino a essere quasi totalmente assente nella quinta a un certo punto qua tirano fuori perché noi siamo alla resistenza e ho pensato no voi siete delle teste di cazzo però è venuto a mancare per fortuna un qualcosa che mi aveva dato un enorme fastidio nella terza e nella quarta parte cioè che alla fine per quanto i poliziotti fossero cattivi o venissero cioè si comportassero a stronti Tamayo Prieto Serra avevano comunque ragione perché questi sono dei cazzo di criminali ok qua invece per quanto ancora le forze dell'ordine vengono fatte passare come delle merde quando in teoria non hanno tutti i torti ma ti fanno capire il perché passano delle merde perché è Tamayo essere una merda quindi tu odi Tamayo ma ti fanno vedere le reazioni contrariate degli altri poliziotti quindi qui le forze dell'ordine non sono più così viste come cattive ma sono visti come cattivi alcuni personaggi specifici tra cui Tamayo che ormai non rappresentano più per lo spettatore la forza dell'ordine ma sono solo degli stronzi che per caso lavorano per la forza dell'ordine meno male che hanno corretto il tiro su questa cosa perché a me dava molto fastidio che volessero farti passare dei rapinatori che sparano e in alcuni casi uccidono come i buoni però è venuta a mancare anche tutta quanta l'ideologia che stava dietro al tutto è diventata una serie action che allunga questi primi 5 episodi potevano raccontartelo in 3 o in 2 addirittura hanno allungato con flashback che per l'amor di dio è un allungamento che ci può anche stare perché flashback sono funzionari a farti capire qualcosa di più sui personaggi ma arrivano a mio parere molto tardi si potevano fare anche prima ma gli sceneggiatori probabilmente hanno visto i miei video e hanno deciso questo ragazzo si merita qualcosa di più dobbiamo dargli quello che chiede grazie sceneggiatori grazie grazie per aver realizzato il mio sogno più bagnato riguardo alla casa di carta grazie per aver ammazzato Tokyo grazie per avermi tolto dai coglioni il più grande difetto della casa di carta meno grazie per avermela tolta nell'unico momento in cui avete iniziato a approfondirla se magari me l'approfondiate prima non mi stava sul cazzo e mi dispiacevo di più per la sua morte non credo sia normale che quando muore la protagonista di una serie tu sei contento non dovrebbe essere una cosa positiva dovrebbe farti dire oh no e invece ero contentissimo tra l'altro lei muore uccidendo Gandia viene smitragliata perché era ferita non ha potuto andare da giù in molte vivande viene smitragliata dalla Suisse Squad dei poveri si avvicinano tutti e scoprono che lei ha tolto la linguetta tutte le sue bombe quindi esplode tutto ma io vi dico sceneggiatori se nel primo episodio nei prossimi episodi della quinta parte si scopre che in qualche modo noi non abbiamo visto bene la scena perché non ce l'avete mostrata più di tanto e si scopre che Tokyo si è salvata mi incazzo perché non c'è nessun modo logico per salvare Tokyo da quello che succede non c'è nessun tipo di espediente che possa sembrare plausibile che mi faccia pensare che Tokyo effettivamente non abbia perso la vita in quella in quella in quell'azione suicida non è possibile quindi per cortesia non mi fate lo scherzetto per cui si scopre che Tokyo è viva perché veramente spacco tutto porca puttana grazie per averla uccisa e buonanotte il suonatore finito sta cazzo di cene che ci ha rotto i coglioni però perlomeno non è stata una sofferenza guardarla come è stato invece per me vedere la terza e la quarta parte c'è da dire una cosa sulla casa di carta sofferenza fino a un certo punto in realtà sofferenza a livello di contenuto ma ha un potere questa serie nonostante non mi piaccia io divoro ogni parte ogni volta che esce ho questo istinto coprofago di mangiare questa merda televisiva che non capisco da dove mi arrivi perché effettivamente è coinvolgente ti coinvolge per le cose sbagliate perché nel mio caso è talmente una cagata che voglio capire fino a dove si stanno spingendo e quindi mi divoro un episodio dietro l'altro in questi 5 episodi io ho visti uno in fila all'altro nel giro di poche ore 3-4 ore proprio uno dietro l'altro continuando a pensare però sono rimasto più soddisfatto sotto altri aspetti il punto è che ormai non ci provano neanche più come a dire ma si dai la stiamo finendo buttiamola in vacca a questo punto però penso che sia il ragionamento più giusto hai una roba che ormai sai che ha fatto il salto dello squalo tempo fa già che puoi buttala completamente in vacca e cedi e magari a qualcuno piacerà non mi sembra di aver letto grandi pareri positivi addirittura c'è chi sostiene che questa quinta parte questi primi episodi della quinta parte siano i peggiori della casa di carta io non sono d'accordo io ricordo bene la terza e la quarta parte e ricordo quanto pensassi che fossero insulsi e inutili lo penso anche di questi primi episodi della quinta parte ma perlomeno mi sono sentito più intrattenuto e ho goduto di più dell'approfondimento di alcuni personaggi da questo punto di vista onestamente credo che ci sia stato un passo in avanti poi rimane sempre una cacata rimane sempre una cosa inutile e siamo tutti d'accordo però perlomeno alcune cose le hanno resi interessanti però ad esempio mi rende interessante Serra per due episodi salvo poi farla diventare una mammina pancina che abbraccia il figlio ed è lì come un agnellino e basta ecco questa cosa la trovo abbastanza allucinante cioè capisco che il professore sarà tutto figlio capisco tutto ma questo change of mind improvviso e repentino con lei che a momenti si unisce alla banda mi sembra veramente eccessivo ed esagerato era un bel personaggio siccome è Serra in questa prima parte della quinta parte me l'hanno resa una cretina cioè era partita che era tosta e finisce che è una rincoglionita mi dispiace dirlo ma è così secondo me e quindi siamo ancora al momento in cui non sappiamo bene cosa è successo le bombe sono esplose si è salvato qualcuno della suicide squad dei poveri questo non si sa Helsinki muore o vive tutte domande di cui in realtà della cui risposta non mi frega un cazzo guarderò l'ultima parte e ce la saremo tolta dalle palle per sempre e qualcuno potrebbe dirmi però scusami Victor ma se tu non apprezzi la casa di carta ma per quale motivo indossi una maglietta con la casa di carta e probabilmente la indossi anche nel privato il motivo è molto semplice si può dire tutto la casa di carta ma non che le tute rosse con la maschera di Dalì per quanto ispirata a Inside Man non siano fighe cioè se si tratta di una questione a livello estetico io sono assolutamente d'accordo nel dire che sì una maglietta con questa immagine la metto molto volentieri adoro tutto ciò che è pop mi piace soprattutto io credo che la cosa di Bella Ciao sia stata una delle trovate migliori della casa di carta per cui la maglietta che ha scritto Bella Ciao è qualcosa che io volevo avere perché mi piaceva tantissimo proprio da un punto di vista estetico se poi penso al contenuto no ovviamente no però quante cose orribili ci piacciono da un punto di vista estetico tante ce ne sono tantissime tantissimi prodotti anche cinematografici che magari non sono belli in toto ma hanno un'estetica che è fantastica quindi va bene così ecco non volevo specificare perché qualcuno giustamente mi ha chiesto dicendo scusa dici tanto lo fai solo perché è pampling no no questa qui me la sono comprata io cioè questa qui l'ho proprio comprata io di mia spontanea volontà me la sono fatta arrivare perché mi piaceva non mi è stata imposta questa qui tra l'altro ragazzi non è nuova questa ce l'ho da un paio d'anni quindi è da mo' che ce l'ho l'avete visto anche in altri video quindi l'hanno rilanciata sul sito in occasione dell'uscita ma io ce l'ho da mo' quindi assolutamente non è una questione di sponsorizzazione micro sponsorizzazione poi siccome l'hanno rilanciata questa a dieci euro la rilancio anch'io ne approfitto perché so che a tanti piace la casa di carta però io l'ho presa per un puro motivo estetico quindi questa era giusto una parentesina per cui secondo me è stata una parte abbastanza brutta con tutti i difetti del caso ma meglio rispetto alle precedenti che mi avevano veramente fatto girare le palle poi ci sono i soliti rapporti amorosi di cui non mi frego un cazzo però ad esempio il momento in cui Denver e Mosca suo padre vanno si fanno i chilometri per andare a telefonare a Benjamin il padre di Manila per dire se devono portare la rapina della zecca di stato oppure no con lui che piange dicendo sta iniziando a vivere la sua vita non è mai stata felice mia figlia la sto avendo felice vi prego non rovinatela ci sta questa cosa mi piaceva era molto tenero come momento tra lasciando loro che parlano in altavoce di fare una rapina in un bar senza che nessuno chiami la polizia ma quello è un altro discorso vedete per una scena bella c'è comunque la controparte di cagata sempre devono sempre metterci dentro qualcosa e Denver in questi primi 5 episodi l'ho trovato un po' scarico e sottotono Arturito ormai come ho detto prima devono fargli fare il coglione sempre comunque quindi boh sinceramente meglio del solito ma stiamo comunque parlando di una puttanata clamorosa e probabilmente qualche altra cagata mi sarà sfuggita perché sono tante nel caso scrivetelo nei commenti per cui io ringrazio ancora una volta Morte Bianca per aver partecipato a questo video spero vi siano interessate anche le sue opinioni ma non ho dubbi che vi siano interessate perché Morte Bianca lo si ascolta anche per 16 ore senza battere ciglio quindi vi invito a scrivere un commento qui sotto anche in maniera spoilerosa perché tanto tutto il video è spoileroso cosa ne pensate in questa quinta parte se come ho sentito per altri anche per voi orribile ed era peggiore oppure se come me avete trovato i lati positivi ma comunque la considerate una cagata bella e buona io vi abbraccio vi ringrazio per avervi seguito fin qui voglio tanto ma tanto bene beccatevi questo abbraccio sudato perché nonostante siamo ai primi di settembre qua fa ancora un caldo come fossimo al 16 luglio e noi ci vediamo al prossimo movieblog ciao a tutti